ben tornati carissimi e buon mercoledì a tutti perdonerete la faccia un po sbattuta ma ho fatto nottata perché è tradizione che ogni quattro anni o segua durante la notte elettorale americana l'evolversi della situazione adesso siamo qui praticamente all'ora di pranzo italiana ancora non conosciamo l'esito delle elezioni a proposito qualcuno di voi interessato questa cosa qualcuno di cui è seguito ma io lo so non lo so non parliamo comunque di politica parliamo del Lille perché perché noi domani giochiamo una parita importante una parita importante non solo per la qualificazione ma una parita importante anche per come si potranno gestire le forze nel corso delle prossime settimane prima di parlare del Lille e prima di dirvi tutto quello che vi serve sapere sulla squadra francese vi ricordo che qui sotto trovate scritti adesso non mi ricordo se di qua o di là non lo so comunque qua sotto trovate scritti i contatti per il gruppo telegram e per il numero di telefono whatsapp al quale mandare i vostri vocali i vostri video vi ricordo alle 13 venerdì la diretta per parlare proprio di Milan Lille e allora parliamo del Lille il Lille è una squadra che gioca chiaramente nel campionato francese ma questo penso lo sapevate già ed è una squadra che sta facendo molto bene sta facendo molto bene dalla scorsa stagione perché ha trovato un assetto di squadra particolare con un allenatore bravo che ha messo a posto tutte le cosette che andavano messe a posto che tipo di squadra è il Lille allora intanto il sistema di gioco il sistema di gioco è il 4-4-2 l'allenatore Christophe Galtier che aveva fatto delle buone stagioni al Saint-Etienne adesso è arrivato al Lille l'anno scorso ha giocato la Champions League quest'anno in Europa League perché è arrivato quarto nella scorsa stagione e quest'anno sta facendo molto bene ha iniziato molto bene il campionato zero sconfitte così come noi secondo posto in classifica una squadra con delle caratteristiche ben precise che adesso andiamo a vedere allora come vi dicevo 4-4-2 modo riferimento partiamo da come gioca Lille e poi andiamo a conoscere alcuni giocatori perché c'è tanta qualità in questa squadra non è un avversario da sottovalutare nonostante giochi in un campionato diciamo dai valori abbastanza dei valori medio bassi perché il campionato francese sappiamo che è sostanzialmente un ristorante con un unico cliente che è il Paris Saint Germain e gli altri si siedono tutti fuori aspettando che arrivino le ossa per scannarsi per il secondo posto secondo terzo posto insomma questa questa è un po' la dinamica della Ligue 1 allora dicevo la squadra si presenta con il 4-4-2 è una squadra che gioca tendenzialmente in due modi costruzione dal basso se non c'è pressione gioco direttamente verticale se invece c'è pressione quindi bisognerà stare molto attenti da un punto di vista delle scorribande offensive perché Lille come vedremo ha dei giocatori veloci tecnici capaci di far male attraverso uno schema di gioco collaudato come vi dicevo se la squadra subisce pressing si va al lancio lungo lancio lungo può arrivare sui due attaccanti oppure può arrivare direttamente sugli esterni i quali hanno la tendenza molto ad accentrarsi per favorire la discesa dei terzini quindi una squadra che attacca molto e attacca anche con molti uomini a differenza dell'anno scorso però quest'anno diciamo che ha corretto un aspetto che poteva essere devastante contro avversari altrettanto veloci e altrettanto tecnici sostanzialmente più forti cioè il fatto che l'anno scorso giocava con una difesa molto alta cioè la squadra rimanendo sempre compatta però si proiettava in avanti quest'anno invece diciamo che la squadra è un pelino più lunga dal punto di vista di disposizione in campo però è un po più attenta giosefonte che il difensore portoghese il leader della difesa dell'IL è il diciamo il riferimento ultimo però quest'anno gioca qualche metro più indietro lo ha fatto anche domenica nella partita con lione è partita tra l'altro che ha mostrato quelle che sono proprio le caratteristiche di questa squadra è come vi dicevo una buona squadra ben organizzata una squadra compatta squadra veloce e tecnica è sicuramente una delle migliori compagini del campionato dei normali diciamo in Ligan e come descrivevo poco fa ha nel ritmo dal punto di vista offensivo la sua arma principale ma anche l'aggressività dal punto di vista di conquista del pallone dei giocatori veloci dei giocatori tecnici dei giocatori che sono in grado di dar fastidio al possesso di palla avversario come sottolineavo adesso sta cercando Galtier di porre rimedio alla questione difesa troppo alta perché chiaramente fonte non è un fulmine di guerra gabriel che era il difensore preposto diciamo inseguire gli avversari non c'è più è passato all'arsenal e quindi la squadra sta cercando di trovare il suo equilibrio tutto questo nel contesto comunque di una formazione che segna abbastanza ma soprattutto non subisce gol quali sono i numeri del lille in questa stagione allora intanto come vi dicevo è seconda e classifica in campionato dietro al pari san germain ha segnato 15 gol e ne ha subiti quattro due in casa e due in trasferta di questi 15 gol 12 sono arrivati su azione anche questo è un dato importante quindi pochi gol su calcio di rigore pochi gol calcio impiazzato tanti gol la maggior parte di gol sono arrivati da azione e al terzo posto della classifica in francia naturalmente per tiri in porta per incontro ne ha una media di 4.8 tanto per fare un raffronto noi abbiamo 5.3 di media e al secondo posto nella classifica delle migliori difese di gol subiti per partita 0.4 come dicevo ha una difesa molto buona 5 volte su 9 nel corso di questa stagione perché in francia sono già alla decima giornata comunque hanno giocato 9 partite 5 volte su 9 è uscita dal campo senza subire gol quindi vincendo molte partite 1 a 0 2 a 0 qualcuna che 4 a 0 comunque diciamo con questo rollino di marcia è diciamo ha un possesso medio perché ha 53 per cento di media di possesso palla noi abbiamo 55 perché noi come loro siamo squadre che cercano a un certo punto la verticalità tra l'altro è quinto per passaggi riusciti per per incontro ed è anche questa una statistica che ci racconta come ci sia un gioco verticale e anche un gioco che porta a forzare un po la giocata e quindi a cercare delle giocate più difficili ricordate cosa vi ho raccontato su tonali ecco quel tipo di gioco lì sono come dicevo imbattuti in campionato una media di 1.7 gol a partita che non è male ma tenete conto che noi abbiamo ad esempio 2.3 di media gol a partita però c'è da dire una cosa nelle partite un po più difficili in francia con avversari diciamo più o meno di pari livello cioè marsiglia nizza e domenica con il lione ha sempre pareggiato e sempre per 1 a 1 comunque è uscita imbattuta queste sono le caratteristiche di una squadra che va assolutamente rispettata poi vedremo chiaramente domani quali saranno le scelte da un punto di vista dei giocatori sia per noi anche se pare che insomma Pioli voglia confermare abbastanza la squadra con alcuni cambi dovrebbe giocare Diogo Dalotto dovrebbe giocare Tonali al posto di uno dei due centrocampisti poi c'è il ballottaggio tra Rebic e Leao ma insomma soluzioni ci sono Ibra c'è scritto questa mattina sui quotidiani Ibra deciderà con Pioli veniamo a alcuni giocatori qualcuno probabilmente di vostra conoscenza anche perché ne abbiamo parlato in chiave mercato altri invece forse un pochino meno conosciuti allora intanto è la squadra dei Jonathan questo ve lo segnalo e sarà felice anche l'amministratore del nostro gruppo su Telegram perché giocano Jonathan Bambà Jonathan David e Jonathan Iconet di questi tre due sono molto buoni e uno ancora da capire Jonathan Bambà quest'anno quattro gol e quattro assist è sostanzialmente l'esterno a sinistra con proiezione molto offensiva dall'altra parte c'è Iconet Iconet che adesso gioca come esterno nel centrocampo a quattro ma è un giocatore che ha fatto tanti ruoli perché ha fatto persino la mezzala ha fatto il trequartista ha fatto l'esterno d'attacco insomma un giocatore molto molto interessante Jonathan David invece è il giocatore che è stato acquistato quest'anno per sostituire Osimane che è andato al Napoli poi vi faccio una domanda adesso rispondetemi è più forte Osimane o è più forte Leao? Vi lascio con questo quesito anzi vi lascio adesso questo quesito poi mi finisco di raccontarvi del Lille e poi mi dite chi è più forte dei due secondo voi dicevo Jonathan David è un attaccante che era entrato anche in uno dei tanti video mercato che abbiamo fatto ne avevamo parlato durante il lockdown insomma ve l'avevo presentato perché era un attaccante che si era messo in mostra nel campionato belga con il Ghent quest'anno pagato 27 milioni di euro ancora non è riuscito a fare un gol anche sbagliato un calcio di rigore non mi ricordo i pari in Europa Liga nell'ultimo turno con il Celtic comunque fino adesso non è riuscito a fare la differenza tant'è che diciamo in più di qualche circostanza ha perso la titolarità in attacco a favore di chi di Burakil Maz il 35enne attaccante turco dalla grandissima esperienza soprattutto in Turchia ha giocato nel Fenerbahce nel Besiktas insomma nel Trabzonspor dove ha fatto tanti gol è un attaccante di grande esperienza di grande fisico proprio per quel gioco verticale alla ricerca appunto dell'attaccante per la sponda e il movimento degli esterni di cui parlavo prima altri giocatori di fonte vi ho detto campione d'Europa col Portogallo poi c'è Renato Sanchez ricorderete il centrocampista passato anche per il Bayern Monaco che poi doveva arrivare in prestito da noi poi non se ne è fatto nulla insomma lo conoscerete sicuramente poi c'è Sumare il centrocampista accostato al Milan nel quale per prestazioni non bellissime e anche per dei problemi un po conflittuali con la società perché lui voleva andarsene la società non voleva venderlo poi voleva venderlo poi non si è trovato d'accordo con chi l'avrebbe potuto voluto comprare in ogni caso quest'anno solo due presenze da titolare in campionato e ha giocato entrambe le parite di Europa League di Burakilmaz vi ho detto poi gioca Timothy Weah che è figlio di George Weah che è uno degli attaccanti diciamo di riserva e poi c'è Luis de Araujo a seconda di come vi piace la pronuncia o come più corretta poi magari chi di voi ha più esperienze in merito me lo dirà è un attaccante esterno brasiliano 24enne interessante quest'anno ha segnato solo squadre con la M perché ha segnato a Marsiglia nel pareggio e poi ha segnato il gol vittorio con il Metz quindi gol decisivi ma tutte squadre con la M quindi domani se entra in campo se gioca attenzione a Luis de Araujo o de Araujo insomma questo è quanto per la presentazione della sfida di domani Milan-Lil per il temporale dicevo perché se vinciamo siamo di fatto quasi qualificati con quattro punti secondo me in due partite con l'Ile siamo siamo qualificati tranquilli e poi possiamo andare a farci le ultime due gare con i Rangers e con lo Spartapraga con totalmente una squadra rivoluzionata perché appunto chi se ne importa e possiamo far riposare i titolari per quello che sarà comunque un tour de force da qui alla fine dell'anno anno che speriamo se ne vada presto perché insomma per fortuna Maradona sta meglio tanto per dire una delle ultime che è questo 2020 ci ha messo in conto vi auguro una buona giornata fatemi sapere chi è più forte tra Osimène e tra Raphael Leao e poi fatemi sapere anche le vostre impressioni su Lili se avete modo di se avete avuto modo di vederlo anche perché insomma il campionato francese lo danno su Dazon è un po' più accessibile rispetto ad altre magari squadre che vi ho presentato dove è un po' più complicato reperire le partite vi ricordo l'appuntamento con la diretta di venerdì alle 13 qui sotto il contatto whatsapp per mandare i vostri vocali una buona giornata e alla prossima ciao 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 ciao